Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Per delle verifiche sulle alberature è chiuso Viale dello Scalo di San Lorenzo Navette, al posto dei tram per le linee 2, 3, 5, 14 e 19. La ferrovia Termini Centocelle al momento non è attiva, si può utilizzare come alternativa la linea di bus 105, ulteriori dettagli e aggiornamenti sono sul sito di Atac. Oggi nel quadrante est della città, eventi a Via dei Castani e a Via di Tor Sapienza. Le deviazioni bus in dettaglio su romamobilita.it